Vai! Io sono lucido e lo sto facendo solo per il vostro divertimento. Ok. Comunque. Necronomico. Necronomico. Quanto god si è casca di un tavolo. Appena sette anni fa, Pamela stava festeggiando i suoi diciott'anni al bingo. Io ho vinto una piotta. Con sua zia. Mia madre. Oggi, dopo sette anni... Ciao! Oggi, dopo sette anni... Ma che è tua zia? Tutto questo è possibile. Ciao zia. Grazie a due persone che hanno creduto in un sogno. Che hanno creduto nella possibilità di dare a Pamela quello che le aspettava da anni. Un cazzo di compleanno festeggiato con gli amici. Bravo! Questo assumante è qua a testimoniare che... Che cazzo ne sapevo, basta. A coronare. Bravo, Giorgio! Yeah! Vediamo. Viva, basta. La natura della torta... Un bacio diretto qua. Caga, caga in pista. Ma non beccio qua. Allora, se domani pulisci la merda di qui, va bene. Ma perché scusa? No, non caga. Domani. No, ma caga qui perché si sente schiesto. Ma non caga tutta. Caga qua perché si sente schiesto. Ora questo nostro discorso è giusto. Ma stai fuori. Matilde Ubriaca. Qualcosa che non avrei mai pensato di vedere nella mia vita. È possibile. Andrea D'Angelo. Claudia Russo. Ma quanto è vero che grazie a Facebook sappiamo tutti i cognomi di tutti? Io non so il cognome di nessuno. Io li so di tutti. Diorno Maccioppo è l'unico cognome. E poi vai grande. Vero? Le scocciate, vieni qua, vieni qua. Le super scocciate. È buio però ragazzi. La foto delle super scocciate. Sì, bravo così. Sì. Sono una scocciatona. Si vede poco però vabbè. Siamo belle uguali. Basta quello che conta. Non è abbastanza etero per me. Allora, va adottando la torta. La torta è qui. Ah, oddio sta raccontando un aneddoto. Vabbè, ciao.